il campanello quando erano tanti al refettorio il superiore quando iniziava il pranzo suonava per dire la preghiera o suonava per chiudere il pranzo probabilmente uno che è stato miracolato da san francesco per grazia ricevuto nel 1942 quando c'era la guerra allora ha preso questa bomba e l'ha regalata a san francesco a san francesco per grazia ricevuto isbs significa tempio dedicato alla vergine sandissima san francesco era innamorato della madonna gli voleva tanto tanto bene quindi ogni chiesa che costruiva la verità va alla madonna infatti questa è chi è? ma lì c'è il corpo e lì c'è l'aria e lì c'è la pelleva e lì c'è la vola marrone bravissimo, bravo, ottimo, ottimo sono delle richieste che le persone fanno benedice la testa bravissima, brava Giorgia mettere lì dentro la testa è un esempio di pietà popolare quindi non è che la chiesa ci dice andate lì a san francesco mettete la testa bravissima, più importante, pregata cosa significa carità? amore amore è che significa molto buon? è una buona buona nascena buona nascena e quindi è boba vor得 ben a noi stessi e a Giorgia a tutti amore il prossimo a neighborhoods e specialmente a Giorgia è giusto quindi la stessa cosa noi adesso stiamo entrando nella grotta di San Francesco in questa grotta di San Francesco ci stava giorni e giorni a pregare e i frati non lo disturbavano nessuno perché sapevano che lui doveva pregare e chi doveva pregare? Dio quindi nessuno lo ha pregato un po' di San Francesco Un applauso a San Francesco, no? Io non lo sento bene, un applauso a San Francesco! E hai maestri Cristian Andrea? Bravo!